A presto, a presto, a presto, a presto. Tu, Desiree, la famiglia ce l'hai fuori? Fuori la chiappetta d'oro, ma fuori del brutto questo. C'è un'attostanza, eh? Ci sto bene qua, Paola. Questa ci costa 35 euro al giorno, li manteniamo noi. Claudio è sempre stato un po' strano, particolare. Ma ti rendi conto della situazione in cui vive? Deve buttare questa pasticca, capito o no? Vira fuori i coglioni, te lo avete una donna. Ce l'ho stata a mettere contro. Eh, Desiree? Brava. Con mi sorella siamo molto legati. Mi aiuta sempre quando ho bisogno, ci sta sempre. Se non si dà una mano fra di noi, qui bisogna essere uniti. Tu pensi di riuscire a risolvere sempre tutto così, eh? No, loro sono la mia famiglia, che devo fare? Ah, la tua famiglia? Non è che so io, che so sbagliato. Che so sbagliato pure io. Perché non abbiamo mai provato a fare un figlio? Sono successe tante cose, non ti sei mai accorta di niente. Ma ti nascuta anche tu, sull'alta lena. Non ti preoccupare, che io ti sto a vieni a prendere dove sei. Felicità, felicità. Ta-ra-ta-ta!